Con una delibera del 29 novembre scorso il Comune dell'Aquila ha deciso di chiudere la scuola dell'infanzia della frazione di Bagno, quasi 2.500 abitanti, una delle frazioni più popolose della città. Una scelta che agita la popolazione alle prese con la tenuta sociale messa a dura prova dal terremoto. Genitori, educatori e cittadini tutti si mobilitano per chiedere al Comune di rivedere la sua scelta. Già 400 le firme raccolte in pochi giorni per scongiurare la chiusura del plesso, ritenuto uno dei migliori per la qualità didattica e che accoglie 28 bambini di tutta la circoscrizione di Bagno Monticchio. Una decisione inspiegabile considerando che nel 2015 il Comune aveva dato incarico di demolire la scuola elementare di Bagno per poter ricostruire al suo posto una scuola dell'infanzia più grande con un giardino, che diventasse un punto di riferimento anche per le famiglie delle altre frazioni della circoscrizione, una delle più estese con un totale di 3.500 residenti. Incomprensibile, dicono i cittadini, che ora il Comune voglia ignorare addirittura la presenza di uno stanziamento finanziario. La scuola dell'infanzia è la presenza più importante come istituzione non solo scolastica ma sociale e pubblica in questo territorio. È un territorio di 3.500 abitanti ed è giusto ed è importante che le scuole rimangano sul territorio perché l'identità passa attraverso la presenza di una scuola. I bambini nascono in quel posto, si conoscono, crescono insieme. Se togliamo le scuole il territorio perde la sua identità, diventano dei dormitori, delle altre cose. Questo è già un territorio povero perché mancano tanti servizi. La scuola è l'unico elemento importante intorno al quale si sta recuperando e ricostruendo un territorio. Stiamo raccogliendo le firme nelle varie frazioni, ne abbiamo raccolto 3-400, le porteremo al sindaco e alla direzione di scolastica provinciale facendo presenti i nostri motivi. Speriamo di essere ascoltati. Intanto la ricostruzione a bagno procede, nuovi cantieri sono in corso ma l'appello è ad avere altri servizi. Per ora a bagno ci sono infatti soltanto la scuola dell'infanzia che rischia la chiusura e le poste. Abbiamo bisogno di un'area verde attrezzata, un campetto di calcetto, un parco giochi per i bambini, un centro servizi, perché ce n'è uno ma è della curia e quindi lo gestiscono la curia, la parrocchia, insomma la comunità civile nel suo complesso ha bisogno di una presenza, di una struttura che sia in grado di accogliere tutti.